Siamo qui nello spogliatore pece degli sconfitti purtroppo dell'Olanda, ragazzi allora parlo con te che sei capitato, onore a voi comunque avete portato a termine una partita così, ci sono altre squadre che hanno rinunciato a giocare, voi invece avete portato la partita a termine, avete combattuto sotto una peggio incessante, purtroppo il risultato vi è un po' punito, anche se comunque vi andavate forse di paleggiare. Sì, purtroppo la partita l'abbiamo riaperta forse un po' troppo tardi, abbiamo cercato di pensare, di provarci fino all'ultima anche nei minuti di recupero, però questo tempo ci ha un po' fermato e la volontà c'era di fare un buon risultato, però purtroppo è arrivata un'altra sconfitta. Forse però su questa partita ci sono le basi, ma i primi minuti, ci sia la partita che c'è stato in gioco veramente bene? Sì, purtroppo i primi minuti della partita stavamo senza il portiere e ho dovuto improvvisare un po' io a Porta e abbiamo subito il primo gol, poi fortunatamente è arrivato il nostro portiere che ci ha dato un'ottima mano a difendere anche il risultato. Io comunque vi faccio i complimenti soprattutto per la sportività e un po' per le prossime.